Benvenuti a questo nuovo video da canale al banco da lavoro come vedete siamo in video chiamata su Skype e stiamo registrando lo schermo del pc quindi salutaci anche tu bene siamo qui in questo video un po' strano per parlarvi di quello che stiamo andando ad affrontare in questo periodo e quindi dei nostri progetti che vogliamo condividere con voi stiamo lavorando all'organizzazione di una festa e quindi ovviamente faremo anche un video su appunto l'organizzazione e vi diciamo già che riguarda un po' la parte tecnica dell'organizzazione quindi l'impianto audio l'impianto l'impianto luci e tutte queste cose quindi entro la settimana prossima avremo la festa quindi il tempo di rendere italia prima di questa festa qui cioè prima del video di questa festa magari mettiamo il video del dell'altra festa che c'è stata prima cioè di un concerto che c'è stato prima sì un concerto live in una palestra e sì che appunto metteremo questo video e poi comunque vi faremo anche vedere il video della festa e dell'organizzazione un'altra cosa aspetta comunque anche nel concerto che abbiamo fatto da poco due settimane giusto cioè non è che abbiamo creatato abbiamo sempre abbiamo collaborato sempre per l'installazione dell'impianto audio anche delle luci e siamo stati diciamo un po alla console cioè diciamo siamo stati un po alla console per dire sì siamo stati un po per controllare le luci aggiustare l'audio così ecco sì e quindi poi un'altra cosa che stiamo lavorando che chi ci sta seguendo lo sa bene è quel il progetto che appunto sarà utile alla produzione di un film però di questo non vogliamo anticiparvi niente vogliamo lasciarvi un po di suspense e quindi se voi continuerete a seguirci poi riuscirete a capire cosa cos'è questo progetto e riuscirete anche a vedere questo questo film adesso comunque vi sto facendo vedere la pagina facebook si come potete vedere una pagina facebook dove adesso abbiamo raggiunto i 50 mi piace e niente qui adesso non stiamo pubblicando soli video non stiamo c'è non stiamo mettendo dei post perché comunque siamo ancora in pochi in 50 e quindi magari quando saremo di più magari vi daremo anche qualche vi faremo sapere anche qualche ne so qualche news vi daremo sì e infatti quindi se volete anche seguirci da facebook sapete come fare mettete un mi piace alla pagina e rimarrete in in contatto appunto con con la nostra pagina con la nostra senza per qualcosa ci scrivete lì sulla pagina facebook noi vi rispondiamo sì infatti già è capitato ci hanno fatto delle domande a un progetto e non gli abbiamo risposto quindi se siete curiosi o comunque volete anche puntualizzare qualcosa o volete magari per precisare qualcosa che noi abbiamo detto magari vagamente potete farlo tranquillamente commentando il video oppure scrivendo sulla pagina facebook poi un'altra cosa che volevo dire è che ci farebbe molto piacere se se magari ci consigliaste dei progetti da da fare cioè magari ci dite voi eh magari non ne so fate ci richiedete di di costruire qualcosa che può ritornarvi può ritornare utile a voi quindi noi siamo disponibilissimi anzi accogliamo calorosamente le vostre idee e infatti se ci viene proposto di appunto di costruire qualcosa che serve a proprio a voi noi saremo molto contenti di farlo poi un'altra cosa che abbiamo in mente è quella di diciamo di pubblicare corregimi se sbaglio Luca cioè di pubblicare magari dei vostri progetti quindi dei nostri iscritti certo certo sia per mantenere il canale attivo ma anche per magari sponsorizzarvi e far vedere magari cosa costruite e niente sì infatti noi siamo disponibili anche a questo magari anche realizzare un video in partecipazione con voi e ci farà anche molto piacere e quindi non esitate a contattarci e a scriverci e quindi niente noi aspettiamo le vostre richieste e stiamo anche cercando un luogo per realizzare i nostri progetti perché siamo un po' in difficoltà appunto con la logistica cioè appunto il luogo in cui realizzare i nostri progetti non abbiamo a disposizione un luogo stiamo cercando facendo un po' delle ricerche e per questo voi vedete magari ogni qualche settimana noi non riusciamo a caricare dei video perché non riusciamo a concludere il progetto che stiamo realizzando per questo motivo quindi quando non vedete non vedete che vengono caricati dei video non spaventatevi ma stiamo solo lavorando dove possiamo sì un'altra cosa perché noi siamo abituati a mettere diciamo un video a settimana no? quindi magari se quella settimana non riusciamo a mettere un video magari ci inventiamo qualcosa lì neanche diciamo una cosa improvvisata giusto per tenere attivo il canale e niente ad esempio questo video qui lo stiamo facendo oltre a spiegarvi queste cose ma anche perché stiamo cioè dobbiamo ancora finire di realizzare il progetto no? sì infatti che non diciamo nulla no infatti e poi un'altra cosa che volevamo dirvi è che a breve ci saranno le vacanze di Natale quindi ovviamente ognuno di noi partirà e quindi non sappiamo se riusciremo a caricare dei video durante questo periodo ma torneremo subito a gennaio magari con un progetto fatto durante l'estate è solo magari da uno di noi e non da tutti e durante scusate durante il Natale no durante il Natale è fatto appunto da uno di noi magari da solo e comunque ritorneremo subito a gennaio sì quindi cioè per qualche settimana due tre settimane non cioè diciamo fino alla prossima settimana ci sarà il settimana prossima ci sarà l'ultimo video diciamo no? sì no il penultimo perché poi ci sarà il video degli auguri magari sì ci sarà il video della festa eh eh magari facciamo lì in quel momento anche gli auguri sì infatti sì e quindi siamo siamo comunque andiamo anche noi in vacanza e torniamo a gennaio quindi ragazzi per questo video è tutto ci vediamo al prossimo video che sarà appunto quello della 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 festa cioè non della festa che facciamo il video stiamo organizzando ma del concerto del concerto che c'è stato circa due settimane fa e quindi niente vi salutiamo al prossimo video ciao al prossimo video video ciao ciao